Beh, ciao, eh? Si dice, chi va via perde il posto all'osteria. Dipende. Se ad andare via fosse una brutta femmina, piccola, storta, malfatta, e torna, eh, ci dispiace, sa, è tutto pieno, non sapevamo, eh, eh, pazienza. Ma se ad andare via fosse una bella femmina, una bella gnocca, alta, slanciata, svetlante, e torna, si accomodi, ma scherzerà? Mi sono seduto così per caso, non mi sarei mai permesso. Occhio. Occhio. Grazie.